Oggi siamo prontissimi per testare tantissime cose su GTA V Ma soprattutto cercheremo di scoprire se davvero si può morire con una scossa elettrica E ragazzi, come va? Io sono Ferenichi E io sono Stef e questo è Geekama GTA V E siamo tornati con la nostra serie del Si Può Fare Il primo episodio vi è strapiaciuto in una maniera incredibile Quindi siamo prontissimi a fare tanti nuovi esperimenti Sono troppo felice con i consolini, piacciono le nostre idee Allora, quest'oggi faremo, quante sono? Una, due, tre, quattro Quattro, non tre ma quindi quattro Abbiamo proprio la lista, qui siamo organizzati in una maniera che è proprio davvero Il più interessante sarà appunto scoprire se davvero si può morire Prendendo una scossa elettrica e lo faremo alla centrale elettrica del gioco Ovviamente Però voglio partire da un'altra che è davvero divertente ed interessante Allora Ok, la sai già, vero? Sì La inizia a dire nel mentre? Ma io sono felicissima Sì, inizia a dirla ma io sono felicissima Si chiama la leggenda del camminatore arrabbiato Ok, è molto famosa Praticamente In modo che tutti comprendano Questa leggenda dice che se tu segui per molto tempo su GTA V un civile a caso Dopo un po' di tempo si girerà e inizierà a prenderti a pugni così a caso Senza averlo toccato, senza averlo spinto, senza averlo sparato Si girerà e ti prenderà a cazzotti Io qui avrei due dubbi su chi inizia a prendere a pugni chi Però, però ci sto Non puoi iniziare tu a picchiare perché altrimenti non vale Che noia però Devi seguire, guarda quello lì in fondo, vieni, vieni, vieni da questa parte È perfetto, è perfetto In una strada lunga da solo Capisce subito che lo stiamo pedinando Ovviamente non si può neanche correre perché si spaventano quando corri Esatto, quindi Quindi adesso io cammino Sì E li vado dietro Ok Per due ore Ok È una signora o un signore? Una signora Secondo me è più probabile che funziona con i signori Però così ci togliamo già il dubbio se funziona anche con le femmine No, ma scherzi, le risse tra femmine sono la cosa più bella del mondo La stai per toccare, rallenta un attimo È un posto più veloce, è lenta L'hai toccata? No Ok, meno male Mi sono fermata subito Stai attenta, eh Guarda, 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 guarda Ha cambiato strada Ha cambiato strada, sta cercando di confonderti Aspetta, aspetta Perché vuole capire se davvero la stai pericolando È interessante, è interessante sta cosa E non me l'aspettavo la svoltina così Aspetta, aspetta Io voglio far vedere gli sguardi della signora, ragazzi Sta guardando Non le voglio rubare la borsetta Stia tranquilla Sta cercando in tutti i modi di evitare lo sguardo di Ferenichi Guardando le piante È impossibile È impossibile evitare il mio sguardo Sentirà comunque la mia presenza Come uno spirito Tra poco si gira e ti stende, me lo sento Secondo me sta perdendo la pazienza Te lo dico Si sta davvero finendo di arrabbiare Continua a fare, cioè, giri strani Io non la capisco Da quanto stiamo camminando? Tre minuti? Da un bel po', da un bel po', sì Forza, signora Le dio sto cazzotto a Ferenichi che se lo merita Guarda, sul dubbio Se lo merita sempre Quindi Guardala, guardala Attenzione Di nuovo No, niente ancora Si deve girare Guardarla negli occhi e Pum Un colpo seco che la capota Va bene? Non se la sente Dove sta andando? Dove sta andando? Cioè, si sta buttando in acqua Attenzione Aspetta Si ferma Ok Ehi Me la devo vedere in prima persona a questo momento È ferma Che faccio? Ragazzi Ma abbiamo scelto quella un po' stramba però, eh Non abbiamo scelto una proprio normalissima Cioè, un piede nell'acqua Cioè, giusto per farti capire Secondo me però è arrabbiatissima, eh Sono qui L'hai buttata in acqua No, le ho dato Adesso gli hai dato un vero motivo per darti un pugno però, eh Così non vale Ma così va a essere impasseibile Cioè, che devo fare? Questo non era previsto Non era previsto che si fermasse così nel mezzo di una fontana Cioè, che devo fare adesso? Aspetta Attenzione Sta dando segni di vita Ok Questo è perfetto Guardalo come esogliato Vai, scendi e inizia a seguirlo Uno vuoi io? Sì, sì, vai Ti lascio l'onore Che bello, che bello Magari le ragazze non hanno voglia di iniziare risse Però lui, secondo me No, secondo me più che le ragazze era proprio quella stramba, eh Quindi adesso stiamo a vedere con lui No, infatti dove sta andando, secondo te? Ah, forse a ritirare i soldi? Dai, se lo fisso qua mi devi dare un pugno per forza, però, eh No, ma il discorso è che sta già variando il tutto Non vale Ma perché ci capitano cose strane? Ma non... Ah Ma porca miseria Ma perché è proprio i soldi adesso, eh? Spiegamelo Non era il momento adatto Dovevi farti seguire Esatto Dove va? Forse fai paura No, ti prego non sederti No, dai No Ma no Allora No, no So io cosa fare Parliamo Togli Allora Questa ti giuro Che la rimandiamo Cioè io non ti dico bocciato o non bocciato Dico rimandato Con insufficienza Ma che vuol dire rimandato? Come quando a scuola ti rimandano Perché sinceramente io non mi sono tolto i dubbi Abbiamo trovato solo persone strambe Quindi ci voglio riprovare Però non adesso Per compensare ne voglio subito provare un'altra A tema civili Ok È ancora più fantastica Praticamente la leggenda dice Che se tu colpisci una macchina E quella macchina colpisce una macchina della polizia Ok I poliziotti ammatteranno il civile E non in colpa a te E non in colpa a te Wow Ok Ma provate Quindi ci serve assolutamente una macchina della polizia Eh la cosa più difficile sarà trovare la macchina della polizia E dietro la macchina del civile No vabbè Dietro non è difficile Io pensavo che se proprio non ne troviamo nessuno in giro così a casaccio Facciamo scatenare la polizia Ci facciamo ammazzare Dopodiché pediniamo i poliziotti Ok Ok Le macchine della polizia scappano più in fretta del previsto Allora proviamo col poliziotto a piedi Pediniamolo E appena Aspetta 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 Ne hai visto una? Sì la signorina Pronta? Ok Ci provo eh Tempismo Così No L'ho colpito io Scappa scappa Se l'ha presa con te Non è andata molto bene Io scappo via Mi scusi poliziotto Sono inciampato nel marciapiede Non lo rifarò mai più Sì ha fucile a pompa Però dai Su Sei un po' esagerato Cioè sono inciampato Dai che ce la facciamo? Dovremmo farcela Oh mio dio Dove sta? È lì davanti Vai 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 Tampona Vai Tampono Dai per la gloria Ok È andata Adesso noi ci allontaniamo E quindi? E i poliziotti stanno facendo finta di nulla Cioè A noi hanno sparato a caso E stanno ignorando una macchina che li tampona Perché non succede nulla? Dai Questo deve funzionare Vabbè Aspettiamo il prossimo semaforo Scusi Si tolga dalle scatole per favore Dobbiamo pedinare la polizia qui Ok Ma stavolta faccio una tamponata di quelle incredibili No dai Ma no E poi va dall'altra parte E si separano E lui si rifer Allora Mi sto arrabbiando tantissimo Allora calmati No E non girare Vai dritto Vai dritto Ok Vai Vado Vai C'è una trollata incredibile Ma qualcuno Secondo me qualcuno ci sente e ci sta trollando Io te lo dico Non ci credo C'è un hacker che trolle civili Eh cioè non è possibile Ok 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 Vado Ma si sta affiancando Si ma la prendo in pieno Boom E il polizio ti continua a non fregarli e nulla Ne stiamo pedinando un'altra Non demordiamo qui Ce la dobbiamo fare Non ci arrendiamo No ce la dobbiamo fare Una macchina qua per favore Eh si vabbè L'autobus è troppo anche per me Vado Dai 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 Fortissimo Boom Non ne frega nulla eh Zero di zero Aspetta Magari ci mettono un po' a uscire per prendere la pistola Riproviamo per vedere se magari stavano lasciando correre Niente eh Non funziona neanche questo dai Direi che abbiamo fatto dei tentativi abbastanza buoni Proviamo al prossimo semaforo Altrimenti ci arrendiamo Aspetta 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 Sì Aspetta è sceso Di posto Allora Oh mio dio Oh mio dio Attenzione Quando tutto era perduto Il poliziotto inizia a stare Qualcosa sta succedendo Non sappiamo che cosa Sì però non è arrabbiato Con noi si arrabbiano subito Quindi è già qualcosa di diverso Però stiamo a vedere Che fa No stai fermo Stai fermo Ma non capisco cosa sta facendo C'è la col Ma è morto l'altro civile Ho paura di sì Ho paura che Che noi Quando tamponiamo Ammazziamo il civile E quindi non si possono arrabbiare Per un civile morto Capito Però si sarebbe arrabbiato Se fosse stato vivo Sì perché Perché ci è andato stavolta Esatto esatto Abbiamo solo esagerato Con i tamponamenti Vedi che sta controllando Sei vivo o no Ti posso pestare o no Capito Scusi Sa chi è stato Noi non abbiamo sangue nella macchina Sì è morto È per quello È un mistero vero Chissà chi è stato il disgraziato Ha ragione No non abbiamo visto nulla Guarda se vediamo Se vediamo qualcosa La avvisiamo subito Va bene Arrivederci Grazie Comunque funziona Secondo me Se fosse stato vivo Se la sarebbe presa con lui Quindi secondo me Può funzionare Questa cosa Ok va bene Allora diciamo che Non diciamo che non funziona Ma non diciamo che funziona E quindi rimandato come l'altro Una via di mezzo Una via di mezzo Perché secondo me davvero Se fosse stato vivo Avrebbe funzionato Secondo me Oggi siamo sfigatissimi Eh lo so Può capitare Ma dove mi hai portato? In un posto molto elettrico Terribile E sta pure piovendo Allora Dobbiamo trovare il modo di entrare Perché hai notato che c'è il filo spinato? Eh sì Visto adesso Ci vogliono tenere fuori da questo posto bellissimo? Come si permettono Non mica è pericoloso Ma no Soprattutto quando piove Ci puoi entrare Ovviamente stiamo testando Se davvero si può morire Prendendo la scossa Quindi siamo Nella centrale elettrica Vediamo se sparando al lucchetto Riusciamo ad aprire Un attimino No Bene Però posso scavalcare Ok sì Eh da qui sì Va bene Perfetto Non so cosa dà la scossa In una centrale elettrica Aiuto Ok Aia Sei morto Non so vivo Però mi ha matto malissimo Aspetta Prova a salirci Aspetta che ci salgo Sì sì vai Mi ha divertentissimo Allora Qui sopra? Sì Non fa male Tranquilla Ok Muoviti un po' Ok Fantastico Aspetta Sì Ci voglio riprovare Ok Ci riprovo Facciamolo sincronizzati Vai Perché tanto quando andiamo nei fili Giusto? Ok 3 2 1 Vai Aia no No non l'abbiamo fatto proprio sincronizzato Mi ero mezzo incastrato Più o meno un quarto di vita ogni volta che tocchi Oh l'hai visto? Oh Cioè sono morto da salto io Ma davvero? Mi ha valuto il personaggio a mo' di superman E allora sì si può morire Secondo me se le prendi bene Prendi una scossa talmente forte Che ti sbalza talmente in alto Che poi muori Non lo so Però comunque puoi morire piano piano Prendendo le scosse Quindi a priori questa funziona Avrei voluto trovare un posto Dove appunto rimanere a prenderla costante Però purtroppo Però purtroppo sì Non ci fa salire da altre parti Però sì Alla fine Oh Si muore Quindi si può morire Io all'inizio pensavo anche Che salendoci Non ci avrebbe proprio fatto danno Perché anche questa è un'eventualità Che può succedere Quindi pensavo che direttamente Non funzionasse Almeno una D'è andata bene Giù Lo vedi? Ti diverte proprio Ma perché salta a tuffo È bellissimo Aspetta guardami Vai Vuoi vedermi? Sì Vai Eh ma dai Perché non l'hai presa adesso Ma sei un fail vivente Ma tu sei un fail Ti stavano guardando tutti Ci riprovo Oh sei morto No no Sono vivo Sono vivo Vai Vado Ok Cioè non funziona più Eccola Ha sbattuto di faccia Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Se rimani con i cattoli sopra Praticamente continua a perdere vita Beh ragazzi Se io ci chiedi Se io ci chiedi Stateci un like E se è la prima volta Che avete visto il nostro video Potete consigliare L'idea di iscrivervi Per non perdervi Di altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao